Hanno salutato con un applauso l'attracco della nave della Guardia Costiera di Ciotti al porto di Crotone le 320 persone che il giorno prima erano state tratte in salvo dal pattugliatore di altura al largo delle coste siciliane. I profughi, tutti uomini con un centinaio di minori non accompagnati provenienti da Egitto e Siria, si trovavano a bordo di un peschereccio partito dalla Libia, che era alla deriva. La nave di Ciotti, una volta raggiunto il natante, ha proceduto quindi a trasbordare tutte le persone e quindi si è diretta verso il porto di Crotone, scelto per le operazioni di sbarco. L'Ufficio Immigrazione della Questura ha disposto un doppio canale per far svolgere le operazioni di controllo dello stato di salute svolto dai medici dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Tre migranti presentavano pregresse e amputazioni agli arti.